Buongiorno ragazzi, innanzitutto per chi volesse sostenere il canale, iscrizione gratis e campanellina, attivate la campanellina, clic gratis su iscriviti. Innanzitutto volevo rinnovare tutta la mia stima ed ammirazione a Zorro, a Fonseca del Milan, per chi ha dimostrato un allenatore con carattere. Stai attento Zorro e quei due quando entri nello spogliatoio ti fanno un gavettone perché sono a quel livello là, quei due. Il problema del Milan è che passano troppo tempo a parlare dell'Inter, invece di guardare in casa loro parlano degli altri, che comunque l'Inter negli ultimi 30 anni è quella che ha vinto più titoli di tutti rispetto a Juventus e a Milan, andate pure a controllare. Il problema vostro cari milanisti è che parlate troppo dell'Inter, del braccialetto, il braccialetto nell'hospitality è obbligatorio il braccialetto, ma cosa rompi ognoni? Ma invece del braccialetto dobbiamo parlare di un campionato falsato davvero a questo punto, perché come l'anno scorso per la signora Juventus, la chiamo signora, quindi non la sto nemmeno offendendo, come l'anno scorso per la signora Juventus, dove una squadra che speculava solo sul gioco degli avversari, che giocava 80 minuti nella propria aria con un bugile di nome Gatti che faceva 2000 rigori, l'anno scorso la Juventus alla Juve non viene fischiato un rigore contro per tutto il giorno di andata, ma anche oltre, ma di cosa parliamo? ieri sera la Roma deve fare ricorso perché gli devono dare la partita vinta a tavolino, per due motivi, perché non si gioca con le malattie, è possibile che uno depresso manda un certificato per depressione e dopo cinque giorni lo vedi in campo che corre, che ride, che incita i compagni, c'è qualcosa che non va, non si scherza con le malattie, questi scherzano anche con le malattie, la depressione è una cosa seria ragazzi, ho tanti amici che ne soffrono, questi scherzano anche con le malattie, la depressione è una roba seria, uno depresso cinque giorni dopo va in campo in quella maniera, ma la Roma deve fare subito ricorso, ma a parte quello c'è un rigore grosso come un aeroplano, c'è un rigore per la Roma grande come un aeroplano, cosa si sono inventati ieri per giustificare che non era rigore, quello è un rigore grande come un aeroplano, ma enormemente grande come un aeroplano, quindi la Roma deve fare ricorso e far silare tre punti a tavolino, perché quella secondo me non è una partita regolare per come la vedo io, per vari motivi, cioè ma ti rendi conto no, quello lì c'ha la mano c'ha la mano così, la prende di mano a un metro, vanno al VAR e non gli danno rigore, ragazzi ma siamo matti, a parte che mi sono addormentato a vedere quella partitaccia perché mamma mia che noia, ma a parte quello, ci può stare, sei inizio stagione, squadre nuove, allenatori nuovi, ma come fai a non dare un rigore del genere, ma ragazzi, i romanisti, informatemi bene perché Coop Meiners cinque giorni fa era depresso e poi dopo lo vedi scavallare in campo, fare lanci di 40 metri, incitare i compagni, mi sembra strano tutto qua, posso dire mi sembra strano, si guarisce così presto dalla depressione, io non sono un medico, chiedo a chi fa il medico, si guarisce dopo cinque giorni da un certificato di depressione, lo hanno scritto i giornali che ha mandato un certificato di depressione, non io, e questi, oltre il discorso dell'Aston Villa che gli danno 30 milioni per due bambini e poi se ne liberano subito perché l'allenatore ha detto ma chi sono questi due, ma a parte questo si permettono di parlare dell'Inter, ieri sera quella è una partita o da rigiocare o da dare tre punti alla Roma e a voi del Milan, pensate in casa vostra perché voi quando facevano le barzellette sull'Inter 20 anni fa, 25 anni fa, voi siete diventati un circo perché le cose che fate voi al Milan, all'Inter non ci sono mai viste, nonostante tutto ci fossero dei libri di barzellette sull'Inter perché i nuovi libri di barzellette li scriveranno sui Milan e te Zorro non mollare perché il milanista, il milanista è uno che vuole tutto subito, non è abituato ad aspettare, lascialo perdere, il milanista non vede al di là del muretto, devi tenere duro Zorro! Ciao!